che cos'è la rete cdd css è una rete che riunisce tutti i centri diurni per disabili e le comunità socio sanitarie della provincia di brescia è una rete che è nata in modo informale e spontaneo circa 6 7 anni fa più o meno e aveva proprio lo scopo di far sì che i cdd potessero e le css potessero confrontarsi ragionare un po anche sull'innovazione dei servizi per le persone con disabilità e dare vita ad iniziative che promuovessero l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Sì un pochino sulla scorta di questi incontri questi confronti ci siamo un po' resi conto che la rete poteva essere diciamo generare degli eventi e attivarsi rispetto al fare un po' cultura intorno al tema della disabilità. Ogni anno in occasione proprio del 3 dicembre che è la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità la rete insomma si ingegna un po' per promuovere qualche iniziativa particolare. Nello specifico quest'anno la nostra volontà era un pochino raccogliere un po' il sentire delle persone così della cittadinanza rispetto a quelli che sono i diritti delle persone con disabilità perché ci sta a cuore proprio il tema dell'universalità dei diritti e quindi di come noi nel nostro piccolo all'interno dei nostri servizi promuoviamo questo aspetto ma come siamo visti un po' dall'esterno e come le persone vivono i diritti delle persone con disabilità. Esatto quindi abbiamo realizzato questa iniziativa che consiste appunto nella produzione di un video che unisce a somma diverse interviste fatte a cittadini comuni a cui chiediamo loro il loro parere sui servizi per le persone con disabilità e sui diritti per le persone con disabilità. Cercheremo di dare a questa iniziativa la massima diffusione possibile per cui ringraziamo Radio Bruno, Radio Vera per questa disponibilità perché crediamo che l'inclusione si faccia nel momento in cui alcuni valori, alcune idee, alcuni principi siano il più possibile condivisi da tutti. Possiamo un pochino così come si può dire fare una darvi una madonna santo mi sfugge la parola un'anteprima possiamo darvi un'anteprima rispetto a quello che è emerso effettivamente è emerso che c'è una grande sensibilità e la gente ha così voglia per cui ci sono le condizioni per noi per lavorare bene e per promuovere questo tipo di eventi ecco in continuità. Assolutamente. Ok abbiamo realizzato delle interviste quindi sono delle interviste e quindi l'idea è promuovere diciamo la sintesi abbiamo realizzato un video rispetto alle interviste raccolte e le persone esprimono un po' la propria opinione ecco era un pochino quello sensibilizzare rispetto a questo tema un po' l'obiettivo era quello. Quindi per chi volesse seguirci e seguire le iniziative della rete e dei servizi per le persone con disabilità della provincia può seguirci sulla pagina Facebook che si chiama Rete Bresciana dei servizi CDD CSS. Quindi cogliamo l'occasione di questa opportunità per ringraziare tutte le persone che nella giornata del 3 dicembre insomma promuoveranno attraverso anche dei piccoli gesti quello che noi sta così a cuore proprio perché è fondamentale per le persone con disabilità avere qualcuno che li aiuti che li supporti proprio nell'esigere i diritti che a volte per noi sono scontati ma laddove c'è una fatica laddove c'è un bisogno di sostegno ecco è importante questo lavoro nella quotidianità proprio per garantire quello che è l'universalità di questi diritti.